Vice sindaco, la città metropolitana vicina alla cultura come il Centro Studi Grande Milano e questa è un'iniziativa in cui si coniuga il supporto appunto alla cultura all'idea che la musica è uno dei valori di cui la città di Milano ha espressione, se pensiamo per esempio a Scala. No, no, non c'è dubbio, anzi credo che l'attenzione che il Centro Studi Grande Milano e le altre associazioni e anche private che hanno sostenuto questo evento va proprio in questa direzione, nell'idea che luoghi meravigliosi come questa chiesa questa chiesa dedicata a San Vitone è un luogo meraviglioso che consiglio a tutti di visitare unita alla straordinaria capacità di queste due giovani musiciste dà l'idea di che cosa è Milano, di che cosa è la ricchezza la capacità di attrarre, l'interessante combinazione tra competenza, capacità di produrre, senso artistico, cultura che è un po' il senso di questa nostra grande città e quindi sostenere iniziative come queste vuol dire sostenere lo spirito più profondo e più importante di Milano.